Bentornati, allora la scorsa puntata abbiamo visto il povero Gabriel Yared alle prese con la delusione per essersi visto rifiutare la score che aveva scritto per il film Le Miserabili del 1998 Passano sei anni e si verifica quella che sarà per sua stessa ammissione la più grossa delusione professionale della sua vita Innanzitutto se volete sapere cosa è successo nel 1998 vi lascio il link in descrizione qui sotto se siete su YouTube e qua sopra se siete su Facebook Allora il film Troy 2004 con Brad Pitt, Orlando Bloom insomma è un grosso cast, una grossa produzione internazionale e sarà anche un grosso successo sono per Yared non solo come dire un'occasione di rivalsa ma soprattutto un'occasione professionale perché praticamente negli anni che vanno dal 96, anno in cui lui vince le musiche per il paziente inglese al 2004 quando appunto esce il film Troy, lui inizierà a lavorarci in realtà da un anno prima ma ora vedremo perché lui praticamente si specializza o quantomeno viene percepito dall'ambiente come un compositore che scrive cose intimistiche, romantiche, aveva fatto anche Otony in New York insomma film anche di grosso pathos, di grande pathos ma probabilmente non veniva ritenuto adatto a fare delle musiche epiche o avventurosi o action diciamo così per cui questo film per lui è una grossa occasione qui addirittura lui comincia a comporre prima dello shooting cioè prima che il film sia girato fa una profonda ricerca sulla musica greca tenete presente che siamo nel 2003 quando lui sta scrivendo su internet e ancora gli albori cioè non è semplice come oggi insomma fare una ricerca su una musica etnica o su un qualcosa che non si abbia ovviamente a portata di mano o in casa per cui va in biblioteca, va al British Museum, fa tutta una ricerca sulla musica greca perché il suo concetto è di utilizzare delle melodie e dei passaggi tipici della musica tradizionale greca la musica antica naturalmente, non certo della musica greca contemporanea da utilizzare nel film ma non trova niente che lo soddisfi in realtà mi viene da chiedere esattamente cosa stai cercando nel senso è vero che noi oggi nella musica da film usiamo spesso dei modi che si rifanno alla musica antica ma li facciamo sempre comunque poi filtrati e riarrangiati attraverso la sensibilità del 2000 il suo intento filologico è comunque interessante e apprezzabile anche perché il suo concetto era di utilizzare questa musica non tanto come musica di commento quanto come musica diegetica quindi suonata da musicisti dell'antica grecia sulla scena poi Troia non era in Grecia ma insomma non stiamo a sottilizzare troppo perché Hollywood spesso questi problemi non se li pone minimamente quindi appunto non soddisfatto da quello che è riuscito a reperire Iared si rivolge alla musica bulgaro macedone e trova una cantante che si chiama Tania Zarovska che secondo lui fa il caso suo e la vedete in questa foto e pensa quindi di utilizzare la sua voce per comporre una serie di melodie che possono vagamente ricordare l'antica Grecia quindi come detto inizia a lavorare lungo tempo prima circa un anno prima che il film sia finito e fa una cosa assolutamente insolita prepara un demo da far ascoltare il regista e lo fa suonare dall'orchestra piena da una full orchestra con tanto di coro il regista è contentissimo entusiasta del risultato e qui interviene una cosa che spesso rovina noi poveri compositori ovvero le preview screening cioè molte volte molto spesso ma si fanno delle proiezioni di prova quindi si prende un pubblico finto nel senso che non è un pubblico pagante ma è un pubblico che li ha posta per vedere e giudicare il film alla fine del film gli spettatori devono compilare un formulario dove indicheranno cosa è piaciuto loro del film e cosa non è piaciuto purtroppo per il povero Yared la musica viene praticamente distrutta da quasi tutti coloro che hanno assistito al film la trama non adatta la trama addirittura distraente che se c'è una cosa che la musica in un film non può fare è distrarre cioè meglio come dire una musica che sia sotterranea una musica che sia molto sottotraccia piuttosto che una musica che distraga insomma è la cosa che è lo peggiore che si possa dire che si possa dire di una colonna sonora questa cosa crea ovviamente un grosso problema Yared è tutto entusiasta perché il regista ha mostrato felicità e grande convinzione per la musica addirittura Yared dice ah il regista era sempre in giro per gli studi di Abbey Rhodes che fischiettava, canticchiava la musica in realtà questa è una cosa che noi compositori dovremmo sapere bene cioè molte volte quando noi registriamo qualcosa sentiamo qualcuno il tecnico, il suono, l'ingegnere o l'assistente o chi che fischietta la cosa non vuol dire necessariamente cioè non è necessariamente un sintomo del fatto che siano entusiasti di quella cosa semplicemente perché l'hanno appena ascoltata magari l'hanno ascoltata cento volte quindi ce l'hanno in testa e la fischiettano quindi molte volte noi compositori tendiamo un po' a dar troppo troppo ascolto al nostro ego e pensiamo che solo perché uno sta fischiettando la nostra musica allora debba essere necessariamente entusiasta di quella musica purtroppo non è automaticamente così morale alla favola in 24 ore va in fumo un anno di lavoro che ha fatto Yared su questa colonna sonora ovviamente la colonna sonora dopo questi preview screening così negativi viene rifiutata dalla produzione il regista si trova anche un po' con la patata bollente di doverlo comunicare di doverlo comunicare al compositore che poi sentirà appunto non abbastanza protetto insomma starà dispiaciuto e appunto riterrà questa la sua più grossa la sua più grossa delusione professionale altre ore che è stato fatto sono state montate al posto del temp track delle musiche che erano state registrate ma non ancora nel messaggio definitivo cioè mi ha sempre fatto molta attenzione a far ascoltare delle cose provvisorie perché poi vai a spiegare a chi sta ascoltando sì ma guardate questo qua non è il messaggio finale poi gli facciamo delle modifiche poi immaginatevelo più così più cos'ha normalmente il pubblico ma non solo il pubblico spesso anche gli detti ai lavori non sanno fare questo lavoro per cui attenzione colleghi compositori quando facciamo ascoltare un qualcosa che non sia quanto di più vicino a quello che sarà la nostra idea finale perché poi queste cose girano e si dice era brutto in realtà magari quello che è stato ascoltato è un vecchio provino ho fatto con i suoni campionati cioè a volte succedono anche queste cose quindi attenzione alle cose che girano al contrario di come era successo con le Miserable sei anni prima questo giro Yared non la prende per niente bene allora quindi offeso e dispiaciuto dal rifiuto cosa fa? pubblica sul proprio sito sul proprio sito personale la musica che è stata rifiutata e come dire fa una lunga serie di commenti non particolarmente lusinghieri sia sul regista che sulla produzione insomma per come dire per cercare quantomeno di fare in modo che il pubblico sia sia dalla sua parte in particolare lui come dire rimprovera alla produzione e al regista di non avergli dato nessuna possibilità di tra virgolette di rimediare o di poter modificare qualcosa perché in effetti soprattutto quando il lavoro non è definitivo si possono fare ancora mille aggiustamenti di cambiare la colonna sonora che è stata scritta in mille maniere la si può stravolgere addirittura perché lui dice perché non mi è stata data questa possibilità in realtà la ragione era che le visioni di prova erano state talmente negative che la produzione dice no no che non c'è niente che si può salvare dobbiamo ricominciare tutto da capo e ovviamente il punto non è aver ragione aver torto il punto è che mettersi contro una grossa produzione non è mai una buona idea e quindi in particolare dopo questo episodio della musica pubblicata sul sito e delle lamentele fatte così pubblicamente da Yared nei confronti del regista e della produzione stessa arriva la lettera dell'avvocato di Los Angeles che intima Yared di togliere immediatamente dal sito sia i commenti sia la musica perché altrimenti gli si farà causa una causa da cui sicuramente tra lui e la produzione lui avrebbe avuto sicuramente la peggio ennesima rejected score quindi e con un grosso problema temporale perché mancano due settimane all'uscita del film il tempo è strettissimo viene chiamato John Devney che insomma che in quegli anni insomma era già un compositore molto noto e in forte scesa il quale dice non ci penso neanche sono mica matto a infilarmi in un in un cul-de-sac del genere con così pochi giorni con una colonna sonora un film di tre ore una colonna sonora non inferiore all'ora all'ora e mezza insomma non ci penso neanche quindi insomma rifiuta assolutamente di prendere di salire a bordo del progetto quindi chi può togliere le castagne dal fuoco la produzione del regista ovviamente James Horner che in soli nove giorni diconsi nove giorni scriverà la colonna sonora del film troi ripeto lo scopo di questa puntata è più la rejected score di Ared che non quella che non la colonna sonora che scriverà James Horner che magari tratteremo in una futura in una futura puntata in nove giorni per contratto viene dato ovviamente carta bianca a James Horner e anche qui se vogliamo vediamo il rischio di lavorare troppo troppo tempo prima a un film e quindi essere soggetti anche a mille richieste giustamente che può fare il regista il montatore la produzione eccetera eccetera quando poi si è in condizioni così si ha l'acqua alla gola allora si dà carta bianca il compositore si dice si va bene ci fidiamo di te quello che farai andrà bene l'unica richiesta contrattuale che viene fatta a James Horner è di scrivere non meno di 75 minuti di musica che in nove giorni non so se vi rendete conto io generalmente raramente riesco a scrivere più di 5 minuti al giorno di musica considera però che l'orchestro io quindi in questo caso James Horner non orchestra lui non c'è veramente il tempo materiale di scrivere e sincronizzare registrare emissare e montare 75-80 minuti di musica in nove giorni è una follia stiamo parlando di 7-8 9 minuti al giorno una quantità di musica musica mostruosa che cosa fa comunque Horner non avendo avendo veramente i tempi così stretti mantiene comunque lo stesso spirito della colonna sonora di Yared lo stesso spirito orchestrale mantiene la stessa cantante che quindi era stata come dire assunta da Yared ma poi verrà in realtà suonerà nella perdon canterà nella nella colonna sonora di Horner e quindi insomma come dire tiene tiene in parte buono un qualcosa di quello che era stato fatto per questo di tempo viene utilizzata anche una musica che Horner aveva scritto per un altro film che era Enemy at the Gates un film del 2001 che in italiano era il nemico alle porte per cui alcune scene soprattutto di quella edazione vengono prese da quel film un qualcosa viene preso anche non voglio dire rubacchiato ma diciamo che si fa una citazione con la quinta sinfonia di Shostakovich allora qual è il punto nessuno si debba scandalizzare per una roba del genere cioè Rossini era pieno di autoplaggi di autocitazioni prendeva pezzi che aveva scritto per un'opera li ridattava velocemente per un'altra perché anche lui era un altro che scriveva in due settimane un'opera intera orchestrazione ovviamente inclusa perché i tempi i compositori orchestravano loro e non delegavano il compito quindi lo faceva Rossini hanno fatto tantissimi compositori quello di autocitarsi soprattutto quando le tempistiche sono molto molto strette quando abbiamo parlato del rapporto fra i compositori colti e il cinema il rapporto pessimo fra i compositori colti e il cinema magari andatevi se volete a rivedere le due puntate che ho fatto in proposito abbiamo visto che uno dei problemi dei compositori cosiddetti colti classici di musica serie e così via era la tempistica perché per scrivere i 50 60 70 minuti in una corna sonora poteva richiedere anche un anno che era una tempistica impensabile nel mondo del cinema perché il film deve uscire c'è già una data di scadenza e quindi sono poche settimane per scrivere la corna sonora però il cinema al contrario molte volte appunto dà delle scadenze troppo strette e quindi molte volte si è forzati a lavorare come dire un po' un tanto al chilo la corna sonora di Horner che comunque è bellissima ripeto magari un giorno ne parleremo è comunque una corna sonora scritta in nove giorni una corna sonora scritta in nove giorni non può avere il pensiero come dire il concept e l'attenzione che hanno una corna sonora scritta non dico in un anno ma almeno nelle sei settimane nelle sei settimane di rito tra l'altro se andate su youtube trovate un video dove c'è Horner che sta provando e registrando le musiche le musiche di Troy di tutti sento lui che parla dalle indicazioni insomma per chi è un fan di questo straordinario compositore morto veramente troppo presto sicuramente è un documento imperdibile prima di chiudere ironia della sorte tre anni dopo viene pubblicato il director's cut quindi il film con scene aggiunte che prima sono state tagliate con nuovo nuovo materiale e così via e viene fatto un uso di una musica veramente disastrosa nel senso che viene presa senza ritegno la musica che aveva scritto Horner viene lupata in certi punti di tour si utilizzano le temp tracks con musiche addirittura in certi casi dei provini con i suoni di campionato una cosa veramente bruttissima e fatta molto molto male ma ironia della sorte in un paio di punti di tour troviamo le musiche che aveva scritto Yared che poi erano state appunto rifiutate per cui insomma non so se questo può essere una piccola consolazione per Yared o se al contrario è stata come dire la beffa oltre al danno bene naviganti spero che la puntata vi sia interessata se è stato così lasciate una traccia del vostro passaggio iscrivendolo al canale youtube oppure lasciando un like sulla pagina facebook delle colonne d'Ercole ci vediamo alla prossima puntata non mancate grazie a tutti